E' un video, eh? Questo è un licheno Licheno? Lichene? Un licheno, a Pisa si dice licheno Vedi Questa è l'avventura nella savana di San Rossore Non è una poiana, è una libellula Vedremo un po' come va Questa avventura Che potrete vedere su Su che canale la mettiamo? Discovery Channel Oltre che su Video.alessiolive.it Oh mamma Ah, stavo per morire Un fungo Lo posso cogliere? Non è bele no È mangiato, guardati È vero È stato mangiato da qualche forma di essere vivente Non ben definito Metti di mordere quel coso Metti proprio fuma Ma le tigri Vabbè tanto Figurati Spero che potranno un giorno o altro Ritrovare la mia macchina fotografica E capiranno Cosa abbiamo fatto Prima di finire Morti Qui come potete vedere I cinghiali la sera trovano Divertimento Questa è la adventure Oh, un'avventura No, sono scout Però l'ho sempre odiato Sto facendo quello che fanno loro No, facciamo qualcosa di diverso Appiccate un incendio Allora Facciamo come la pubblicità Quella della Vivi Denxylit Ok, uccidiamo qualcuno Non gli discia Tanti marci Tanti giustelli Tanti le cacate Allora Qui c'è il muschio Quindi vuol dire che Di là c'è il nord Ma il muschio È ovunque il muschio Ma se non ci guardi Non lo sai Ok No, ma io nel mio Ah, nel mio Nokia N Aspettate che sono rimasto intrappolato Nel mio N82 C'ho la bussola Ovviamente Oh no, ma io nel mio Oh no, ma io nel mio